Uomini e donne spoiler, nuova segnalazione su Mario Cusitore, ecco con chi è stato avvistato il neo cavaliere del trono over Dopo la discutibile esperienza in veste di corteggiatore Mario Cusitore ha accettato di presenziare nel daytime di uomini e donne come cavaliere Lo speaker napoletano più volte ha ribadito che i suoi sentimenti per Ida Platano erano sinceri, ma l'ex tronista ha preferito non dargli un'occasione Le troppe segnalazioni arrivate su di lui, l'hanno portata a non scegliere e a lasciare il trono da singolo Oggi Cusitore è corteggiato da diverse dama, ma per molti il suo unico interesse sono le telecamere Per il momento il cavaliere è uscito con Margherita e Maura, ma a quanto pare la frequentazione è giù terminata Diversamente con Morena le cose sembrano essere andate oltre Nelle scorse puntate Mario è infatti raccontato che con la dama c'è stato un avvicinamento anche fisico Il cavaliere è entrato nei dettagli del loro incontro e questo ha infastidito Morena Non è noto se la dama ha posto la parola fine alla conoscenza, i due nelle prossime puntate riveleranno cosa sta accadendo fra loro Intanto Mario è di nuovo protagonista di alcune segnalazioni. Lo speaker radiofonico, nonostante la sua presenza a uomini e donne, non sembra voler cambiare il suo modo di fare Lo scorso weekend è stato infatti avvistato per le vie di Napoli insieme a due donne e all'ex corteggiatore Gianluca Tornese La segnalazione è arrivata all'esperta di gossip dei Anira Marzano che, stando a quanto riferito sui social, ha ricevuto anche il video di quanto l'è stato riferito Uomini e donne, nuova segnalazione per Mario Cositore. Ti segnalo Mario ai quartieri spagnoli con Gianluca Tornese e due ragazze, o il video, questo quanto detto alla Marzano da una fans Per il momento non si conosce l'identità delle due donne, anche se qualcuno ha sottolineato che non sono persone presenti al trono over A quanto pare Mario passeggiava a fianco della misteriosa donna, mentre poco più avanti c'era l'ex corteggiatore con un'altra persona Mario Cositore non ha commentato il gossip che lo riguarda, ha evitato di alimentare le polemiche ma sicuramente in studio darà la sua versione dei fatti Il cavaliere ha più volte ribadito che dopo il fallimento con Ida Noon vuole correre e che desidera conoscere più dame prima di dare l'esclusiva a qualcuna Le nuove conoscenze dopo la Platano sembrano coinvolgerlo molto, anche se Noon si è ancora sbilanciato con nessuna, si sta godendo l'esperienza in tv, che gli sta dando una popolarità inaspettata Grazie a tutti!